Mi chiamo Giorgio, sono originario di Lerici, di Spezia, lavoro per Trispirit, in particolare per Più Cinque, sono il brand ambassador. Siamo qua a Cogoleto, Cogos, perché è il punto di riferimento a Cogoleto per la miscelazione. Siamo qua con Più Cinque, gin tutto italiano, botaniche coltivate in Italia, Italian Dry, gin secco, notte mediterranee ma non troppo invadenti, a 47 gradi, quindi anche una gradazione importante per la miscelazione. Si pone come prodotto super premium. Le botaniche sono dieci, ginepro, fondamentale, salvia, curcuma, mandorla, assenzio, angelica, iris, bergamotto. Perché si chiama Più Cinque? Perché non sapevamo che nome dargli. Quindi abbiamo fatto dieci prove, quella che ci piaceva di più era segnata nella provetta con il numero 5, allora abbiamo detto vabbè chiamiamolo Più Cinque. Poi abbiamo scoperto dopo che è lo stesso motivo per cui Chanel numero 5 si chiama così. Più Cinque nasce sei anni fa da un gruppo di amici alla ricerca di un prodotto che rappresentasse proprio il London Dry però italiano e hanno iniziato a studiare e insieme a Carlo Quaglia e Giacomo Diamanti hanno creato questa ricerca. Il campo principale d'utilizzo è l'alta miscelazione ma anche per un martini, riusciamo a servire un martini completamente ghiacciato con la giusta gradazione alcolica. Il trick che proponiamo questa sera fondamentalmente sono due. Uno è il fichissimo che è un twist sul Tommy's Margarita fondamentalmente. A posto della tequila mettiamo il gin, quindi più cinque, fatto un cordiale con le foglie del fico e poi succo di lime e come garnish, come guarnizione mettiamo un fico acerbo che viene caramellato e poi messo sotto aceto. Mentre il secondo drink si chiama Fade Away, un drink dedicato a Michael Jordan che inventa il movimento di allontanamento a canestro con succo di mela limpido, un bitter rosso, soluzione salina quindi sale gin e viene presentato appunto in Highball come se fosse un gin tonic.